E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro flash update direttamente da Napoli e vi racconto una cosa che fa molto ridere, come sapete siamo qui per Napolet in questi giorni, l'evento insomma di cui vi ho parlato abbastanza e la cosa che fa veramente ridere è che si tiene in una chiesa e quindi oggi di fatto si è parlato di cripto per tutto il giorno all'interno di una chiesa, un ambiente molto strano così giusto per sembrare ancora di più una setta di folli scherzi a parte ovviamente una chiesa sconsacrata molto bello come ambiente tuttavia al di là delle chiacchiere oggi ci tenevo molto ad aggiornarci perché si sta dipingendo uno scenario molto interessante per bitcoin si sta avvicinando il primo taglio dei tassi, si sta avvicinando la fine dell'anno e ci sono alcuni molto ottimisti a riguardo tra cui Standard Chartered, una banca che spesso fa delle analisi interessanti su bitcoin e questa volta si è esposta parecchio affermando che secondo loro non c'è niente che può andare a ostacolare un potenziale oltai mai nuovo di bitcoin già entro la fine dell'anno a prescindere da chi verrà eletto a novembre come nuovo presidente degli Stati Uniti tra poco andiamo a vedere come giustificano questa loro affermazione decisamente molto forte questa non è l'unica cosa perché abbiamo altre notizie molto molto calde ma prima ci tengo a darvi due chicche da non perdere ovvero due launch pool nuovi su Binance e non sono due launch pool qualsiasi uno è il famigerato che anche questo mi strappa sempre un sorriso ogni volta che lo vedo Hamster Combat che insomma lancerà ufficialmente il token e ci sarà anche il launch pool su Binance per chi non lo ha farmato tappando come un disgraziato sull'applicazioncina di Telegram e idem per Katizen che è un'altra applicazioncina, un altro giochino insomma sulla scia proprio di Hamster Combat entrambi faranno launch pool su Binance e tra l'altro se non ricordo male ecco infatti Hamster Combat anche su Super Urn che ne abbiamo parlato in un video recentemente di che cos'è e come funziona quindi queste due cose vanno tenute assolutamente d'occhio perché ripeto si farma a gratis e tra poco vi mostro anche qua date, modalità e tutto ciò che c'è da sapere come vi ho detto non è l'unica cosa perché ci sono anche delle notizie belle bollenti che riguardano vari aspetti, la SEC, novità, lato, infrastruttura, tecnologia insomma ci arriviamo però prima come di rigore andiamo a fare un bel update sulla situazione price action che sembra ricominciare di nuovo a scaldarsi oggi ci stiamo riavvicinando, ci stiamo provando a riavvicinare ai 60.000 e vediamo se la domanda terrabotta a sufficienza prima vi ricordo soltanto in maniera rapida rapida di ovviamente seguirci su Telegram se vi interessa essere aggiornati 7 giorni su 7, 24 ore al giorno su tutto ciò che c'è da sapere, tutto ciò che muove il mercato dati, analisi, notizie, insomma voi dovete semplicemente seguirci su Telegram e attivare le notifiche e siete certi di una cosa che non vi state perdendo nulla è gratuito ovviamente e vi lascio il link in descrizione inoltre promo del giorno su Bitget c'è una nuova promo interessante per i nuovi utenti sul deposito basta depositare almeno 200 dollari e avere dei volumi minimi pari almeno a 500 dollari all'interno del periodo della promozione che dura ancora 12 giorni e si ottiene subito una posizione di 400 dollari long o short a piacere per sfogare la propria scimmia speculativa senza rischiare i propri fondi anche di questo vi lascio il link in descrizione con tutti i dettagli ora torniamo a noi e passiamo all'analisi della price action che come vi dicevo poco fa insomma è un po' dominata in questa fase brevissima in questi ultimi giorni dalla domanda e la domanda scusate il gioco di parole ma c'è da porsi una domanda ovvero fin dove arriveremo il bull case rimane il recupero dei 64.000 quindi questi movimenti di breve magari ci piacciono sì perché vediamo un po' di verde però non bisogna ancora illudersi di niente fin tanto che non si va a rompere dei livelli chiave chiaramente non c'è nulla di fatto lato alterazione strutturale sarà interessante vedere come andremo a chiudere il settimanale sul quale intanto abbiamo un engulfing bullish come chiusura che non è male abbiamo potenzial potremmo meglio recuperare i 58.100 la prima resistenza questo è un primo segno positivo anche sul daily come dicevamo nelle analisi scorse e quindi appunto più ovviamente chiudiamo con una candela verde bella corposa e meglio è ma come sempre il grafico più importante rimane il mensile io consiglio sempre a tutti di guardarlo a prescindere perché dà un'idea più panoramica sulla situazione di mercato e soprattutto a chi chiama bear market o situazioni tragiche cioè io di solito appunto consiglio sempre di andare a guardare il grafico mensile perché mi sembra che parli molto più chiaro no? guardate qua abbiamo giusto i livelli chiave sul mensile abbiamo sì una fase di ritracciamento ovviamente ma è anche palese no? finora come ci sia tanta domanda a sostegno della come dire di cioè per cercare di prevenire delle chiusure delle candele mensili troppo negative e vediamo anche questo mese come se la caverà e tra l'altro settembre dovrebbe dovrebbe teoricamente anche essere un mese sotto tono rispetto al solito e quindi appunto occhi aperti anche su questo grafico e qua recuperare i 61.400 questo livello qui che abbiamo perso con la candela del mese scorso sarebbe un segnale comunque interessante e carino da seguire quindi lato price action questo è quanto in verità proprio perché come vi dicevo poc'anzi finché non abbiamo dei segnali un po' decisi bull case e bear case rimangono gli stessi a tal proposito non ci sono alterazioni strutturali che fanno comunque presagire o comunque evidenziano delle variazioni della situazione di mercato il bull case giusto per fare un reminder e un recapino rimane 64.000 il bear case rimane la perdita dei 54.000 con quindi la possibilità di o meglio l'esecuzione effettiva di un lower low e il target successivo immediato l'area 50-52.000 che come vi ricordo è il supporto più importante di questa fase di questa area di prezzo ok quindi non illudiamoci vedendo una candela verde esaltandoci subito ricordiamo sempre la situazione da un punto di vista panoramico e la struttura di prezzo al momento tutto ciò che accade tra i 54.000 e i 64.000 è comunque una situazione laterale che si pone durante un ritracciamento in essere quindi questo è questo è il quadro mentre torniamo invece alla predizione chiamiamola in questo modo all'analisi alle aspettative della banca standard chartered che si aspetta bitcoin con nuovi massimi entro fine anno e andiamo a vedere quali massimi si aspetta e quali sono le motivazioni soprattutto perché una frase così forte non è che la butti lì così senza motivarla no addirittura senza cioè a prescindere proprio dalle elezioni americane anche se dovessero eleggere la harris e nello specifico guardate già che ci siamo si aspetta 125.000 dollari come stima di possibile target con una vittoria di trump oppure 75.000 dollari in caso di una vittoria della harris le motivazioni principalmente sono legate a detta loro alla positività del quadro normativo del quadro regolamentare che si prospetta per il futuro negli Stati Uniti che dovrebbe incentivare comunque una maggior crescita e adozione del mercato e inoltre vedete in particolare la situazione col sub 121 che è stato come dire respinto quindi sembra che comunque ci sia la volontà di creare un quadro normativo più costruttivo e meno limitante inoltre la situazione macroeconomica degli Stati Uniti in particolare il fatto che i rendimenti dei bond si stanno come dire stanno riducendo per una semplice ragione che ormai stanno prezzando i tagli dei tassi che arriveranno e quindi il mercato dei bond diventa meno appetibile diventando meno appetibile ovviamente con rendimenti minori e che compensano a malapena l'inflazione cosa succede? succede che la liquidità non magari si concentrerà tutta su di loro perché comunque ci sono asset che potrebbero diventare più appetibili proprio al netto dei rendimenti che calano a tal proposito abbiamo fatto anche un'interessante ricerca guardate che abbiamo pubblicato sul nostro sito adesso abbiamo un nuovo editor non so se avete visto quindi scriveremo molti più contenuti abbiamo già iniziato a farlo vi consiglio di seguirci giorno dopo giorno anche lì e ovviamente su telegram condividiamo tutte le notizie e le ricerche che facciamo abbiamo un debito americano da record cosa che non è una novità perché cresce sempre in una maniera disgraziata ma in particolare in quest'ultimo periodo proprio a causa degli elevati tassi di interesse cioè se tu comunque emetti dei bond per finanziare il debito americano delle treasury comunque poi quando scadono devi pagarci il tasso di interesse questo cosa vuol dire vuol dire che vai ad aumentare ancora di più il tuo debito non è una situazione facilmente gestibile va a finire che devi emetterne ancora di più proprio per riuscire a ripagare anche i tassi di interesse cioè veramente uno schema completamente fuori controllo e qua ci sono un po' di numeri se vi interessa e tra l'altro tutto questo pagamento di interessi è liquidità che va nelle tasche degli investitori perché l'investitore che acquista i bond a scadenza chiaramente riottiene il capitale più l'interesse e quindi anche questa è una cosa che si va a unire alla situazione che abbiamo descritto poc'anzi dei bond che diventano meno appetibili a causa del rendimento che cala in più gli investitori avranno maggior liquidità quando verranno ripagati i bond con gli interessi altissimi di questi ultimi mesi e di fatto questa maggiore liquidità c'è più probabilità che si vada a riversare anche su asset risk on quindi questo è un po' il quadro macroeconomico spero di avervelo reso come dire digeribile e potabile poi cos'altro abbiamo invece di interessante abbiamo una notizia che riguarda XRP che è diventato per la prima volta protagonista di un trust di Grayscale con XRP sapete c'è stato il dibattito con la SEC che alla fine è volto a favore di XRP sul discorso security oppure no Grayscale ha annunciato il trust e quello ha avuto un impatto sul breve ovviamente perché il grafico comunque di XRP non è purtroppo un granché sul medio-lungo periodo ma niente volevo solo darvi ovviamente questa notizia la notizia invece più importante secondo me di questo periodo storico è il lancio di CBBTC da parte di Coinbase CBBTC è la versione tokenizzata di BTC voi direte avevamo già WBTC è vero però questa attenzione udite udite è una versione garantita da Coinbase cosa significa questo significa che se voi depositate dei Bitcoin su Coinbase potete prelevarli su rete Bitcoin come Bitcoin o potete prelevarli su Base che è il layer 2 di Ethereum di Coinbase sotto forma di CBBTC e quando voi depositate i CBBTC da Base di nuovo a Coinbase vi appaiono come Bitcoin quindi c'è questa fungibilità uno a uno come viene evidenziato in questo post su X che di fatto ne garantisce il sottostante e a garantirlo è Coinbase quindi non proprio l'ultimo dei Pirla e di fatto questo che cosa crea va a creare un ulteriore forte incentivo all'utilizzo di una versione tokenizzata che poi non è esclusiva Base ovviamente è anche multichain alla fine grazie al bridging si potrà portare su varie chain al momento è anche su Ethereum ma poi chiaramente l'obiettivo è portarlo multichain il più possibile e rilanciare un po' la DeFi proprio con collaterale Bitcoin giusto per darvi dei numeri WBTC al momento ha quasi 9 miliardi di capitalizzazione di TVL e quindi capite bene che con l'aiuto tra l'altro di Coinbase che spingerà tantissimo questa cosa si può andare ad alimentare di nuovo una DeFi che include anche una versione tokenizzata di Bitcoin vi faccio un esempio concreto Aerodrome che è uno dei principali Dex proprio su Base ha lanciato le prime pool che hanno CBBTC come di fatto parte di S guardate vi faccio vedere un esempio abbiamo WETH CBBTC quindi Ethereum Bitcoin adesso questi APR ovviamente sono viziati dal fatto che sono state appena lanciate e quindi hanno FII molto più alte e rendimenti molto più alti si andranno indubbiamente a ridurre poi che cos'altro abbiamo USDC CBBTC avevo visto adesso ve lo ritrovo da qualche parte c'è eccolo qua vedete USDC CBBTC anche qua con un APR stellare ma ovviamente destinato a ridursi nell'immediato eccetera eccetera no vedete ce ne sono ce ne sono parecchie altre sempre che utilizzano CBBTC come uno dei due della coppia del pool e quindi appunto è possibile in qualche modo mettere a rendita anche i propri Bitcoin a fronte di questa tokenizzazione sui DEX su BASE chiaramente non ve lo dico cioè ve lo dico ma è abbastanza ovvio c'è una parte di impermanent loss e sono pool 50-50 nel caso di Aerodrome tenetelo bene a mente poi ci saranno i pool di Uniswap V3 eccetera 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 insomma è un po' un rimettere Bitcoin all'interno della DeFi e secondo me è una cosa estremamente interessante poi che cos'altro abbiamo allora ecco invece per quanto riguarda il discorso security o no i Toro che è stato in causa tra virgolette con la SEC per via del listing di varie crypto negli Stati Uniti alla fine hanno raggiunto un patteggiamento e hanno detto noi teniamo soltanto Bitcoin Ethereum e Bitcoin Cash paghiamo una multa e patteggiamo in questo modo con la SEC quindi la SEC continua a rompere le scatole su questa cosa delle security amica security ma senza mai dire senza mai esporsi troppo addirittura ha detto che in un recente è uscito un recente adesso non so se ce l'ho sotto mano ma è uscito una sorta di cioè un intervento da parte della SEC riguardante il caso mi pare Binance dove aveva rotto le scatole a Binance per le security vediamo se lo trovo SEC Binance security dove la SEC ammette di pentirsi in qualche modo di aver detto quelle cose eccolo qua vedete regrets using the made up term crypto asset security e cioè veramente assurdo vedete si pente della confusione che potrebbe aver generato ma poi continua a utilizzare quei termini lì cioè la SEC veramente si sta comportando in modo ridicolo ma questo non è la prima volta che lo diciamo e non è affatto una novità ultima notizia poi giuro che andiamo ai lounge pool che so che vi interessano e altra notizia bomba ragazzi il mercato dei real world asset il settore dei real world asset è sempre più diciamo protagonista di questa fase di mercato perché addirittura Swift che è il circuito di pagamento globale più utilizzato vuole lanciare un'infrastruttura per integrarsi addirittura con i real world asset e con i digital asset è una fase pilota ovviamente che punta anche a integrare le CBDC quello chiaramente è lo scopo principale ma non solo anche proprio real world asset come possono essere fondi tokenizzati e simili all'interno addirittura del circuito Swift questo è molto importante cioè se Swift un circuito di quelle dimensioni butta un occhio su questo settore vuol dire che qualcosa di interessante di sicuro c'è ultimo e ultimo e ultimo come vi ho promesso i due launch pool in arrivo allora partiamo da hamster combat perché c'è anche super earn quindi che cosa abbiamo la possibilità di farmare hamster combat quando verrà lanciato su binance in queste date dal 23 al 25 settembre quindi mancano 10 giorni state tranquilli sereni e rilassati avete tutto il tempo di farmarlo e quelle sono le date e alla fine cosa succede ci sarà il listing che non mi ricordo quando è ma secondo me è dopo dovrebbe essere dopo il 25 perché di solito se lo trovo ve lo dico eccolo qua il 26 esatto per l'appunto verrà listato poi il 26 hamster quindi il farming sarà prima del listing diventa ancora più interessante perché di solito al listing ci sono delle belle fluttuazioni quindi occhi aperti per questa cosa si potrà farmare con bnb sapete che noi purtroppo in europa non possiamo usare fd usd e poi ci sarà super earn che però sarà un annuncio a parte sarà bloccato per soli 7 giorni super earn vi ricordo è un earn potenziato dove si può mettere a rendita una cripto semplicemente facendo un prodotto earn classico ma con un rendimento boostatissimo l'ultimo era ton se vi ricordate che aveva un rendimento del 300% per 21 giorni mi pare ecco in questo caso sarà hamster e sarà per 7 giorni quindi si potrà mettere a rendita humstr il token humstr dopo il listing presumo perché tu dovrai depositare humstr e vincolarlo per 7 giorni e c'è da vedere quale sarà l'APR in questione quindi su questo ci aggiorniamo seguiteci su telegram per non perdervi la notizia quando arriverà Katizen idem è un altro giochino tap to earn eccetera eccetera sempre farmabile verrà listato attenzione su binance il giorno 20 di settembre e il farming sarà dal 16 al 19 quindi mancano pochi giorni sarà nei prossimi giorni come sempre su telegram vi annunceremo poi una volta che sarà disponibile nella pagina lounge pool ok quindi anche qua solite regole con bnb si allocano i bnb si farmano i kati e poi verrà listato e lo potete dampare quando volete amici questo è quanto abbiamo fatto il nostro flash update le nostre cose ce le siamo dette occhi aperti per i prossimi giorni mercoledì vi ricordo primo funk primo taglio dei tassi sentiamo un po' le paroline di Powell che cosa ci dice di bello per il resto vediamo un po' se avrà ragione oppure no standard chartered sulle loro predizioni mirabolanti per fine anno io vi auguro un buon weekend e noi ci rivediamo la settimana prossima ciao a tutti grazie a tutti